carissimi pace del signore buona giornata a tutti quanti voi 20 gennaio grazie a dio un altro giorno ci viene donato e anche oggi leggiamo nella scrittura stiamo alternando come sapete un passo dell'antico con un passo del nuovo in particolare stiamo alternando la lettura della genesi e del vangelo di giovanni e stamattina leggeremo appunto nel vangelo di giovanni nel capitolo 4 nei versi da 16 fino a 30 sono dei versi in cui continua la narrazione dell'incontro tra gesù e la donna samaritana donna che fu incontrata al pozzo di giacobbe e se c'è qualcosa che impariamo da questo passo è che la salvezza è sempre il risultato di un incontro col signore nessun individuo al mondo potrà veramente essere rigenerato cambiato trasformato se non viene posto dinanzi alla gravità del proprio peccato se non comprende quanto sia orribile il peccato davanti a dio e di conseguenza arriva a pentirsi del peccato e a ravvedersi dal peccato stesso prima di incontrare il signore prima di incontrare la parola di dio prima che lo spirito santo comincia a parlare al cuore dell'uomo tutto sembra in ordine tutto sembra normale tutto sembra a posto tante persone dicono non sono peggio degli altri se dio deve dovesse condannare me dovrebbe condannare tutti quanti gli altri è vero nella maggior parte dei casi nessuno di noi è peggio di qualcun altro ma è altrettanto vero che dio se l'uomo non si ravvede condannerà tutta l'umanità è scritto che il salario del peccato è la morte è il motivo per cui gesù cristo è venuto su questa terra affinché l'uomo possa avere la possibilità di essere salvato e questo è possibile ripeto solo quando noi ci rendiamo conto della gravità del nostro peccato piccolo grande che sia agli occhi nostri o agli occhi del mondo ce ne pentiamo ci ravvediamo e chiediamo perdono al signore gesù si avvicina a questa donna e gli dice chiama tuo marito dopo avergli chiesto da bere aver iniziato un discorso con lei e sono bastate queste poche parole per rivelare la condizione di quella donna c'era disordine nella vita di questa donna non è mio marito dirà questa donna qui e in realtà non era suo marito ma fino a questo momento tutto le era sembrato normale giusto forse perché anche altri vivevano in quella condizione lì e sapete il grande rischio che noi corriamo è di pensare che se un peccato è commesso da molti allora non è più peccato e dio lo arriva a tollerare si adegua quindi al nostro stile di vita non è così non è così il signore non è il signore che si deve adeguare a noi siamo noi che dobbiamo permettere a lui di cambiare la nostra vita in modo che camminiamo secondo la sua volontà secondo i principi della sua santa e benedetta parola questo passo che la donna compì cioè quello di ammettere che quell'uomo non era suo marito e quindi di riconoscere la condizione della propria vita fu il primo passo che la portò poi alla salvezza la donna samaritasco la donna samaritana capì che quello sconosciuto che le aveva chiesto da bere non era un uomo qualsiasi ma era sicuramente un profeta infatti lo dirà io vedo che tu sei un profeta ecco quando noi incontriamo cristo noi realizziamo lo incontriamo veramente noi realizziamo chi lui è egli è il profeta per eccellenza egli è il figlio di dio egli è l'emmanuele lì dio con noi egli è il signore dei signori e il re dei re egli è colui che è venuto su questa terra per poter dare la sua vita per la nostra salvezza gli occhi di quella donna si aprirano possano gli occhi nostri ancora oggi essere aperti per poter realizzare la meravigliosa persona di cristo gesù e per poter contemplare l'amore che ancora oggi scorre dalla croce dal calvario dove egli ha dato la sua vita non perché costretto da qualcuno ma perché per amore egli si è disposto ad essere preso crocifisso e ucciso dai soldati romani nessuno mi prende la vita disse gesù sono io che la depongo fin quando la sua ora non venne tentarono di ucciderlo più di un'occasione ma nessuno ci poteva riuscire quando l'ora sua venne egli permise che i soldati romani lo catturassero anzi si oppose a pietro che cercava di difenderlo e si immolò su quella croce donando il suo sangue pure prezioso per la salvezza di ogni uomo il passato di questa donna era un passato triste terribile ma la sua vita poteva essere cambiata e affinché potesse essere cambiata questa donna doveva fare un altro passo doveva abbandonare ogni formalismo religioso per riconoscere chi dio è infatti dinanzi alla domanda della donna noi adoriamo su un monte voi adorate su un altro gesù dice donna non è il monte non è il luogo non sono le cattedrali non sono i locali di culto dio è spirito e veri adoratori lo devono adorare in spirito e verità donna quello che devi fare abbandonare le tue tradizioni religiose donna quello che tu devi fare abbandonare le tue idee che ti sono state tramandate per abbandonarti in dio che è spirito e che non abita nei luoghi costruiti dagli uomini ma che vuole abitare nel cuore di ogni uomo quello è il suo tempio quella è la sua casa noi siamo grati a dio per i locali di culto dove ci possiamo riunire per celebrare il signore ma dio non è rinchiuso lì la sua presenza si può gustare in ogni luogo anche nella nostra cameretta anche in una stanza di ospedale quando ci troviamo malati e su un letto di infermità lo possiamo gustare in ogni luogo o il signore ci aiuti a non ridurre la nostra adorazione al tempo speso durante la riunione pubblica ma ci aiuti a vivere una vita di intima intensa comunione con lui l'ora è venuta disse gesù l'ora è venuta i fratelli amici cari in cui i veri adoratori adorano dio in spirito e verità possa il signore ancora oggi aiutarci ad avere una visione chiara di quello che è la salvezza e di quello che è il rapporto che dio vuole avere con ogni uomo con ogni donna che per grazie è diventato figlio o figlia sua che di oggi possa veramente trovare in ognuno di noi dei cuori aperti desiderosi di amarlo e di servirlo con tutta la mente con tutto il cuore con tutta la forza per tutti i giorni della propria vita che la sua pace la sua grazia il suo amore la sua guida il suo sostegno ci accompagnino ancora in questo nuovo giorno dio ci benedica pace del signore a tutti quanti voi